L'alo è stato tacciato da più parti di ricordare la forma di un infradito, benissimo avranno pensato quelli della McLaren perché dunque non attirare un noto marchio che produce infradito per griffare, la Nuova struttura protettiva delle monoposto, detto fatto, al Gran Premio d'Australia sugli allo delle MCL 33 di Fernando Alonso e Stoffel Van Dorn si potrà ammirare la scritta, Gandhis, nome per l'appunto dell'azienda di infradito La partnership tra la scuderia inglese di Formula 1 e Gandhis non ha solo finalità commerciali, i proventi della vendita della linea di infradito, a Allo Edition, la quale esibirà al contempo i loghi dell'azienda e di McLaren saranno infatti devoluti interamente in beneficenza, nello specifico alla fondazione Benefica Orphans for Orphans creata dai proprietari della Gandhis Video Formula E, in Messico trionfa a BT, battuti turbi e buemi